Professor Colini, come può la comunità scientifica italiana lavorare insieme a quella internazionale per sostenere questa azione a favore delle persone che hanno un problema di dolore cronico? Io ritengo che i dati europei siano abbastanza in linea in ogni caso, anche se l'Italia ha una sua situazione e ogni paese ha la propria. Perché se riusciamo a produrre o a manifestare questi dati significativi di impatto economico e quanto questi incidano sulle economie socio-sanitarie, aumentando la cultura dei professionisti e del cittadino, oltre che della classe politica, probabilmente riusciremo ad aumentare l'attenzione verso questo problema e riuscendo a portare poi alla fine del percorso un risultato economicamente notevole e per cui penso che sia opportuno sforzarsi e impegnarsi per raggiungere questo obiettivo. Ecco, i dati sono veramente tragici in tutta Europa. Ci sono addirittura paesi che non hanno dati, mostrano quindi di non considerare affatto questo come un problema o ci fanno capire quanto sia sommerso? Il problema è sommerso anche nei paesi in cui i dati sono noti, perché sono delle survey che vengono fatte, ma se poi si gira il cosiddetto mondo reale ci si rende conto di quanto siamo ancora, almeno parlo per la realtà del nostro paese, ancora all'inizio del percorso. Un conto è i dati che riusciamo a estrapolare dai costi medi e un altro è quello che accade realmente quotidianamente negli ospedali o nelle case dei pazienti. Probabilmente sono ancora peggiori di quello che noi abbiamo rilevato. Penso che sia un percorso culturale, che sia giusto farlo con insistenza, sia giusto rappresentarlo ogni volta che è possibile e si raggiungerà, si riuscirà. La passione, l'attenzione e l'evoluzione ci porterà ad affrontare questo problema in maniera civile e soddisfacente.